Siamo ancora una volta qui su Valdinevole News, Spazio Pursia, siamo al secondo appuntamento con la nostra amica Serena Villanceri. Ciao Serena! Ciao a tutti, sono Furio. Beh, che ci leggi? Oggi vi leggo Anima di Creta. Quest'Anima di Creta, cosa sarà? L'ascoltiamo. Prima ve la leggo, poi ne parliamo. Indossi un abito in perile, dove le pieghe della vita diventano le piaghe della tua esistenza, rughe che ti cambiano dentro e fuori, disegnando nei tuoi occhi i tratti del cuore, segni indelebili che ti forgiano come un ferro lavorato a fuoco, ma tu sei e rimarrai Anima di Creta, vulnerabile come la tua pelle. Ecco, quindi, quest'abito di pelle... Sì, e siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Oh, lì c'è arrivato. Sì, siamo noi e fondamentalmente volevo dire che veniamo influenzati da qualsiasi cosa che ci capita in base alla singola sensibilità di ognuno e quindi il nostro animo si forgia da cosa ci succede e di conseguenza, se soffriamo meno, poi lo vediamo anche nella nostra esteriorità, nel nostro quotidiano, nel nostro quotidiano e quindi noi siamo come un'anima di Creta che si forgia, che si forgia in base ai venti che soffiano, agli eventi che capitano e che quindi rimarremo sempre vulnerabili. Il nostro animo è vulnerabile, però magari si può anche rafforzare, ecco perché... Siamo positivi. Certo, siamo molto positivi e ottimisti e quindi questa poesia mi piace tantissimo perché penso che rappresenti ognuno di noi e ognuno di noi è speciale e sarà plasmato in modo differente. È bello che ognuno di noi sia veramente unico al mondo. Vero, quindi a questo punto noi... È la nostra bellezza. La sua bellezza, guarda. Grazie pure. Di ognuno. La mia ormai è la sua, guarda. Beh, Serena, grazie. Grazie a voi. A te. Mi raccomando, la prossima settimana, Terza Poesia, con la nostra amica Serena Milancieri. Voi seguiteci sui canali Valdinevole News, sui social Facebook, YouTube e Twitter. Bye bye! Ciao, alla prossima!